Dopo esserci occupati nella prima parte del capitolo della nascita delle montagne, dei rilievi, quindi dell'orogenesi e della formazione delle montagne e della descrizione delle sue parti, continuiamo con l'esame dei rilievi, dei tipi di rilievi, cominciando dai rilievi di natura vulcanica. Mentre abbiamo detto che la maggior parte delle montagne hanno origine tettonica, cioè dovuta allo scontro tra le placche tettoniche, alcune montagne hanno anche origine vulcanica, cioè dovuta all'attività vulcanica che avviene al centro della Terra. Come si sviluppa questa attività vulcanica? In questo schema potete vedere che dal livello sotterraneo del centro della Terra, del mantello plastico, che ha uno stato liquido-fluido, risalgono attraverso le fessurazioni del mantello solido, attraverso delle crepe che ci sono nel mantello solido, risalgono delle bolle di materiale plastico, di magma. Questo magma risalendo si va a depositare in alcune grotte naturali che si trovano in una crosta terrestre, nel sottosuolo. Le cosiddette camere magmatiche in cui questo magma si accumula fino a riempire completamente queste grotte e generare una pressione tale, quando queste grotte non riescono più a contenere il magma, che deve fuoriuscire da qualche parte. Quindi questo magma risale delle fessurazioni nel terreno, chiamate cammino, e fuoriesce dal cono vulcanico attraverso il cratere, che è l'apertura principale di questi rilievi vulcanici. Ed è così che avviene un'eruzione vulcanica. Un'eruzione vulcanica può essere esplosiva, cioè in generale un'esplosione con una proiezione di materiale plastico incandescente, chiamata la pilli, fuoriuscita di vapori, polveri e gas, oppure può avvenire in forma di colata senza esplosione, quando c'è una minore pressione, cola del materiale magmatico, che si chiama, quando fuoriesce lava, cola attraverso le pendici, attraverso il versante del monte, aumentandone gradualmente l'altezza. Esistono poi dei crateri secondari, che sono una specie di sfiati, attraverso i quali fuoriesce o gas, o vapore, oppure materiale magmatico. Questa è la struttura, diciamo, la sezione di un vulcano. In questa cartina, vedete queste linee, questi puntini rossi, rappresentano la distribuzione dei vulcani nel mondo. In alcuni casi, vedete che i vulcani ripercorrono le fratture che ci sono tra le placche tettoniche, proprio perché le placche tettoniche, allontanandosi nel corso di molti millenni, producono delle fessurazioni nel terreno da cui fuoriesce il materiale lavico. I vulcani rappresentano, possono rappresentare anche una risorsa, perché rinnovano la crosta terrestre, contribuiscono alla composizione dei gas atmosferici, che non sono formati solamente da ossigeno e idrogeno, ma anche da azoto e da altri gas, che si rinnovano grazie alle eruzioni vulcaniche. Potrebbero diventare una risorsa energetica, infatti i crateri secondari da cui fuoriesce vapore possono essere utilizzati per azionare delle turbine, le cosiddette centrali geotermiche, che generano elettricità. Inoltre, il materiale vulcanico, sgretolato e polverizzato dagli agenti atmosferici, rende molto fertili i terreni. Però i vulcani rappresentano anche un pericolo. Le polvere e i gas delle eruzioni vulcaniche possono anche determinare cambiamenti climatici globali. Una delle probabili cause dell'era glaciale può essere stata l'eruzione multipla di grandi vulcani, che può aver oscurato i raggi del sole e quindi prodotto l'era glaciale. Le eruzioni possono impedire il traffico aereo per l'eccezionale altezza a cui arrivano le polveri generate dalle eruzioni. Inoltre, le eruzioni vulcaniche, soprattutto quelle esplosive, sono spesso accompagnate da terremoti e maremoti, che hanno un impatto devastante sul territorio. Riescono a sommergere a volte interi arcipeloghi, intere isole, come è successo nel sud-est asiatico. Passiamo adesso a un nuovo tipo di rilievo, la collina. La collina ha due aspetti fondamentali. È un rilievo che non supera i 600 metri d'altezza, dopo i 600 metri ricordiamo che si parla di montagna, e ha una forma arrotondata. Ora vediamo perché c'è questa forma arrotondata. In base alla loro formazione, le colline si distinguono in colline moreniche, si formano in seguito a depositi di materiali trasportati a valle dall'azione dei ghiacciai. Infatti queste colline moreniche si trovano ai piedi delle montagne, proprio perché sono accumuli immediati dovuti all'azione dei ghiacciai. Poi abbiamo le colline che si formano per erosione. Vedete in questa immagine, nella linea tratteggiata, vediamo la montagna che ha originato questa collina, che per l'azione esogena, ricordiamo che viene dal di fuori, degli eventi atmosferici, soprattutto vento, pioggia e neve, viene continuamente erosa. L'azione del vento poi tende a livellare, a dare la caratteristica forma arrotondata alla collina. Ovviamente questi sono processi che avvengono nell'arco di millenni, non in qualche anno, quindi sono impercettibili all'occhio umano. Poi abbiamo le colline vulcaniche, che non sono altro che i resti di antichi vulcani spenti. Hanno delle forme abbastanza riconoscibili, perché presentano uno sprofondamento sulla cima, che è il cratere dell'ex vulcano, nel quale spesso si sviluppa vegetazione, addirittura foreste, oppure diventa sede dei cosiddetti laghi vulcanici. Ancora abbiamo le colline tettoniche, abbiamo detto che le placche tettoniche, nel loro spostarsi, nel loro scontrarsi, possono appunto provocare delle increspature, degli accartocciamenti che generano le montagne, ma possono anche sovrapporsi una sull'altra e generare un rilievo tondeggiante, appunto come una collina. Poi abbiamo le colline sedimentarie, che sobbiccuscono lo stesso processo delle colline morreniche, ma questa volta i sedimenti sono dovuti all'accumulo di materiale trasportato dai fiumi o dalle piogge e trascinati a valle. Sono di solito riconoscibili, perché sono disposte ad onde parallele, come le nostre langhe nel Piemonte. Concludono la trattazione dei rilievi le pianure, poi passeremo alla distribuzione delle acque sulla terra, come le acque formano il paesaggio. Le pianure sono delle aree prive di rilievi notevoli, in genere non superano i 300 metri al di sopra del livello del mare. Le pianure, anche esse, si sono formate a seguito di processi naturali. Abbiamo le pianure di accumulo, che si formano allo sbocco delle valli, grazie all'accumulo di materiali, di solito sassi, sabbia, ciotoli e detriti, trasportati dai fiumi che scendono dai monti. Questi materiali hanno riempito le conche, i fondali lasciati liberi dal mare che si è ritirato. Poi abbiamo le pianure da erosione. Come abbiamo visto nell'arco di millenni, l'erosione delle montagne è dovuta a fattori esogeni, quindi fiumi, gli acciai, vento, pioggia e neve, spiana, erode piano piano le montagne. Quando questo procedimento si verifica in milioni e milioni di anni, si può arrivare dalle montagne a generare addirittura delle pianure. Poi abbiamo un altro particolare tipo di pianura che si chiama altopiano o acrocoro. È una vasta area pianeggiante che si può trovare anche al di sopra dei 3.000 metri. Pensate che il Tibet, che è uno dei territori del mondo che si trova più alta quota, a circa 5.000 metri d'altezza, è una grande pianura, in questo caso un grande altopiano. Quindi si possono trovare delle grandi pianure anche al di sopra dei 300 metri. In questo caso prendono il nome di altopiano o acrocoro. Sono dovuti all'erosione di antichi massicci montuosi, che ricordiamo sono dei conglomerati di roccia, oppure possono avere origine tettonica. Bene, con la trattazione delle pianure si conclude la prima parte del paesaggio dedicata ai rilievi. Nella seconda parte, come detto, ci occuperemo della distribuzione delle acque, ossia dei fiumi, dei laghi e dei mari. Arrivederci. Grazie.